questa è l'ora solare benvenuti bentornati oggi abbiamo una di quelle puntate che appare rotonda e completa fin dall'inizio prima di tutto perché ci siete voi oggi parliamo di le ho scritte gentilezza gratitudine e attenzione verso gli altri guardateli bene sono emanuele e barbara come condividere uno spazio per riprendere a lavorare insieme pur avendo due negozi uno separato dall'altro danielo umera un meraviglioso scrittore esperto di scienze del benessere della qualità della vita che ha scritto la biologia della gentilezza ne parleremo tra un istante con lui e poi abbiamo pietro giordanella con francesca presentati guardate qui siamo a bologna e indicano una spilletta una spilletta di legno con la loro immagina la loro faccetta su quella spilla dietro quella spilla c'è tutta una storia storia che con estrema gentilezza vado a presentarvi però andiamo con ordine prima di tutto saluto l'autore con immaculata ed è vivo di biologia della gentilezza le sei scelte quotidiane per benessere salute longevità edito da mondadori qui vorrei fare trrrr rullo di tamburi daniela lumera perché sono una sua lettrice molto attenta buongiorno 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 grazie del suo libro stia lì è non si muova che ne parliamo tra poco allora collegato dal bar hobos di cremona emanuele capelli buongiorno 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 emanuele collegata dal piccolo caffè a cremona barbara dauria buongiorno barbara buongiorno ben arrivata allora cominciamo da daniel lumera gentilezza ottimismo perdono gratitudine felicità non è una ricetta facile dottor lumera e né il suo libro propone alla fine della lettura del libro avrete imparato però è un libro che va in fondo all'anima delle persone che lo leggono e questo è molto importante la biologia della gentilezza è sicuramente una ricerca appassionata nei valori ho capito dopo un percorso molto lungo che ci sono delle ragioni non solo etiche morali anche spirituali verso questi valori ma che sono proprio degli imperativi biologici ci abbiamo bisogno per star bene sono delle medicine naturali se fino a qualche anno fa la scienza pensava che tutto il nostro destino fosse scritto nel nei nostri geni è successo che le ricerche le ultime ricerche scientifiche hanno invece dimostrato che c'è un grandissimo livello di responsabilità in ognuno di noi questo vuol dire che tutte le malattie croniche come diabete cancro anche cardiopatia ma anche alzheimer e demenza semile sono influenzate moltissimo da tutta una serie di fattori ambientali quindi non solo le nostre scelte di vita ma anche il nostro mondo interiore le emozioni e i nostri pensieri conta tutto diciamo è una è una somma totale la gentilezza scusi dottore perché poi entreremo ancora più approfonditamente ma ho bisogno della parola gentilezza del termine gentilezza in realtà rende infinitamente più forti è così la gentilezza come parola per me è meravigliosa perché richiama il senso del garbato dell'amabile del dolce e deriva da gentilis dal latino la gens nell'antica roma era un gruppo familiare allargato non solo le partimenti la stessa famiglia ma un gruppo molto più allargato e ognuna di queste persone verso l'altra esercitava una benevolenza una cura un amore profondo e quindi è una parola che richiama soprattutto appartenenza senso di appartenenza che per essere creato non ha bisogno di nessuna violenza verbale di nessuna competizione neanche di farsi dei nemici ma soprattutto ciò che crea la profondità di questa parola è il rispetto la cura benevola allora a proposito di gentilezza emanuele emanuele giovane lo vediamo proprietario di un bar che si trova a cremona voi avete riaperto alla vostra clientela dopo il lunghissimo lockdown quando emanuele abbiamo riaperto il 21 di maggio 21 di maggio molto bene e voi da siete diciamo aperti io arrivo a cremona e a che ora tirate su le seracinesche posso venire da voi noi siamo un locale serale quindi apriamo dalle 18 in poi fino a tardanotte benissimo la sua vicina di attività un giorno bussa la sua porta e ha fatto molto bene a bussare la sua porta perché la storia che vi raccontiamo è la storia di due persone belle profondamente per bene che hanno scoperto che se vai in tandem e pedali nello stesso modo la bicicletta si muove e questa è una grande notizia allora la sua vicina di bar barbara le fa una particolare richiesta quale sì mi ha chiesto di poter usufruire dei miei tavolini io una terrazza esterna che da sul sulla piazza con i tavolini esterni e appunto mi ha chiesto di poter utilizzare appunto nel momento in cui io sarei chiuso quindi entro le quattro del pomeriggio lei aprendo la mattina mi ha chiesto di poter utilizzare i miei tavolini perché in questo momento bisogna stare fuori specialmente se il locale all'interno è piccolo ma al di là della della dimensione della grandezza un po alla stagione un po il fatto che se si esce fuori si può riattivare il tutto eccola qui barbara barbara è titolare del piccolo caffè piccolo di nome di fatto ma tanto grande perché c'è tutta la storia della sua famiglia all'interno di quel piccolo caffè esattamente mio papà e la mia papà e mia mamma la mia famiglia d'origine hanno aperto 44 anni fa hanno lavorato sodo ci hanno insegnato a lavorare e in questo momento era un momento di difficoltà e questo faccio io questo si voleva dire dove sta il bello torno da lei emanuele no barbara è collegata barbara si sono qua eccola qua eccola qua non non le voglio togliere la parola insomma un bar che voleva e doveva riaprire che effetto che effetto le ha fatto vedere da parte di emanuele una disponibilità immediata incredula incredula ma perché comunque sia l'altruismo è difficile di ritrovarlo in questi momenti di difficoltà diciamo che uno pensa proprio al proprio orticello e per me era l'ultima spiaggia perché date le dimensioni date la situazione la possibilità di non mettere i tavolini io esterni perché comunque abbiamo delle strisce pedonali certo impidiscono proprio per la regolamentazione stradale cioè non potevo stiamo vedendo le immagini perché chiaramente barbara io sempre io non io paolo insomma io cittadino di cremona no vengo all'interno del suo piccolo caffè ma entro la bellezza del bar quando siamo in tanti no a prendere il caffè aspetti il tuo turno aspetti che si liberi il bancone tutto questo in questo momento non può essere e la sua riapertura del 25 maggio è diventata automaticamente un'altra cosa è diventata assolutamente trovare tra virgolette un fratello di lavoro che che non pensava di poter trovare assolutamente per me è stato ricevere una grazia io posso solo dire grazie emanuele dica qualcosa anche lei sente cosa si dice della sua persona assolutamente sì guarda sono felice di aver potuto aiutare barbara perché appunto so anch'io i momenti in cui in cui che stiamo vivendo soprattutto da tre mesi a questa parte quindi mi ha fatto assolutamente piacere aiutarla e poi è un gesto che molto semplice non ha richiesto alcuno sforzo e sono stato ben felice e i vostri clienti che sanno di questa cosa chiaramente perché per fortuna queste notizie si vengono a sapere girano come hanno reagito barbara allora è io ho ricevuto dai miei clienti una una risposta positiva perché il giorno stesso che ho cominciato ad avere questo plateatico si sono presentate delle persone anche di una certa età che non venivano perché sapevo che dovevano sarebbero dovuti restare all'interno no certo e la risposta anche che dico adesso ed emanuele è che tanta gente mi dice sta totalmente bravo che andremo a fare l'aperitivo da lui e io sono contenta di questo per chi come si dice emanuele lo vede allora posso confermare ho diverse persone che sono venute a fare l'aperitivo che mi hanno mi hanno si sono congratulate con me che sono anche clienti di barbara allora torno da daniel lumera eppure è tra virgolette solo gentilezza e guardi che guardi che rivoluzione che riesce a fare ma io sono io mi ricordo i racconti di mio nonno dopo la guerra che lui era chiarissimo loro sono riusciti a rialzarsi grazie alla cooperazione alla solidarietà alla gentilezza e non grazie alla rabbia alla competizione qua stiamo comprendendo che le vere chiavi per sopravvivere in questo pianeta sono questi atti di gentilezza io per anni per anni mi sono preso l'impegno di avere come abitudine di fare tre atti di gentilezza ogni giorno in maniera disinteressata uno verso un essere umano uno verso un animale uno verso una pianta ed è il miglior investimento che noi possiamo fare ma non solo per gli altri proprio per la nostra salute la scienza lo dice chiaramente far del bene fa bene fa bene assolutamente allora una proposta per emanuele una proposta per barbara emanuele faccia un un cocktail barbara e barbara si inventi un caffè emanuele come minimo con molto cioccolato sopra lo faremo tanta dolcezza ecco ma lo faccia veramente bellissimo ci mi da un emanuele e poi io arrivo ad emanuele dico emanuele il barbara il solito grazie può essere un modo no nel tempo vi ricorderà vi ricorderà la cosa bella che avete fatto chiedere e rispondere allora sicuri che tutto questo accadrà lo so quando mi vedete così è perché sto scoppiando dalla felicità questa è la realtà dei fatti a questo serve il verbo può sembrare un po brutto ma questo serve l'ora solare a portare nelle vostre case storie che sono tutte vere e sono bellissime barbara grazie e buon lavoro al piccolo caffè e ovviamente grazie emanuele attenzione bar obos cremona 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 allora danielo mera rimane con noi ci fermiamo solo per un attimo ritorniamo tra un istante grazie leggendo leggendo biologia della gentilezza le sei scelte quotidiane per salute benessere longevità edito da mondadori daniel lumera è qui con noi con immaculata di vivo ha scritto questo altro ulteriore suo bellissimo libro professore siamo tra un istante da lei per continuare a parlare di gentilezza andiamo a presentarvi pietro giurdanella presidente dell'ordine degli infermieri di bologna e infermiera nel reparto di dialisi dell'ospedale sant'orsola buongiorno ben trovato buongiorno a lei con francesca presentati infermiera del reparto dialisi dell'ospedale sant'orsola di bologna e buongiorno ben arrivata francesca e un occhio attento vi dirà non si senta senza spilletta il professor lumera che noi tre noi tre pietro francesca e paola siamo muniti di una spilletta molto particolare allora questa sono io quando sono con tutta ben sistemata carina col fiocchetto in testa e con il mio nome quindi se io in questo momento fossi con la mascherina davanti agli occhi avessi un camice non mi si vedessero i capelli avvicinandomi ad un letto potrebbero dire un guarda c'è paola l'infermiera paola la dottoressa paola insomma c'è paola pietro giurdanella viene intervistato dal tg3 regionale raccontando l'immenso lavoro l'immenso lavoro degli infermieri in questo tempo e laura zavagli una illustratrice è davanti alla tv e guardate il nostro giorgio brancia che cosa ha raccolto sono l'illustratrice e una sera di qualche mese fa ero riunita con la mia famiglia davanti alla tv stavamo guardando il tg e una giornalista intervistato un infermiere raccontava il disagio che stava vivendo mentre si rapportavano questi infermieri tutti mascherati con i pazienti i pazienti facevano fatica a riconoscerli e anche tra personale sanitario c'era difficoltà nel riconoscersi allora i miei figli hanno pensato hanno detto mamma ma perché non chiami e proponi i tuoi disegni a questo infermiere e quindi ho deciso di contattarlo e così è nato il progetto di queste spille tutte personalizzate per esempio patrizia è castana è molto elegante mentre invece Bruno è moro più sobrio e ogni spilla appunto è caratterizzata dai tratti somatici dell'infermiere o del dottore ne ho creati un centinaio per il reparto di alisi dell'ospedale di sant'orsola e gli ho regalati ovviamente è stato sorprendente e gratificante creare queste cose per loro e mi sono anche sentita veramente utile ecco sia io che comunque anche i miei figli perché mi hanno aiutato a realizzarle tutte cento le spille è stato bello perché comunque mi sono interfacciata personalmente con gli infermieri e loro dopo le loro ore spenuanti di lavoro si dedicavano a me e il lavoro per me non è finito nel senso che ho donato queste spille ma mi si è aperto una grossa opportunità lavorativa perché sì diciamolo nel senso che sono stata travolta dagli ordini gli ospedali di Bologna e poi non solo mi hanno chiamato da tutta Italia e anche dall'estero quindi ecco per me è stata un'esperienza magnifica e tuttora lo è una grande opportunità Cara Laura Zavagli a parte che sembra lei una sua spilletta cioè proprio alla faccia da sue spillette questa ragazza questa mamma Francesca presentati ce ne parlerà tra un attimo ha lavorato molto fianco a fianco con Laura Zavagli ma Pietro Giordanella voi siete stati nel nell'inferno e non è finita non è finita e vi dobbiamo così tanto ma vedervi riconosciuti vedere che una sua richiesta un suo che dalle sue parole sia nato tutto questo che effetto le fa? Ma guardi è stata un'emozione eravamo veramente alla fine del mese di marzo i primi di aprile nel pieno della confusione e appunto nell'intervista che ci ha fatto quel giorno il Tg3 mi chiedevano qual era uno dei nostri più grandi problemi io ho detto il mio più grande problema è farmi riconoscere dai malati e quindi da lì la chiamata che ho ricevuto l'indomai mattina della Laura ha cercato il mio contatto attraverso internet mi ha detto presidente io ho la soluzione per voi e mi sono emozionato e tuttora ancora nel rivedere queste immagini mi emoziono perché per noi farci riconoscere dal malato poi in particolare il malato di dialisi è un malato cronico che ci conosce ad uno ad uno adesso noi abbiamo solo le mascherine ma di solito quando si opera con il paziente positivo c'è un'imbardatura tale per cui facciamo fatica a riconoscerci anche fra di noi Noi stiamo vedendo, ringrazio ancora il nostro regista Alessandro Trese, in queste immagini provate a immaginarli tutti senza spilletta e guardate si rischia di non salutare l'uno con l'altro salutarsi l'uno con l'altro perché oltre alla mole di lavoro infinita che questi signori e signore si sono trovati davanti e continuano a trovare davanti a sé, meno va bene ma insomma ecco il rischio è quello di non riconoscersi, Francesca è stata la persona, infatti Francesca è la sua spilletta perché io la guardo, la vedo inquadrata, è esattamente la sua spilletta lei ha aiutato molto Laura nella realizzazione, cioè nel dire no guarda sistema i capelli così no, Olga ha i capelli in quella maniera, Bruno ha i capelli in quell'altro modo sì, praticamente quando Pietro mi ha detto del progetto mi sono subito sentita con Laura via telefono perché comunque avevamo iniziato a messaggiarsi con delle mail ma era impossibile riuscire a comunicare, allora ci siamo chiamate e abbiamo iniziato a creare questi disegni praticamente era semplicemente, facevamo l'elenco di tutti i colleghi e io uno per uno descrivevo le caratteristiche peculiari di ognuno di noi quindi capelli biondi, gli occhiali, gli occhiali rossi, i capelli ricci tutto nei minimi particolari perché ognuno di noi si caratterizza meno male per qualcosa che sia i capelli ricci, che sia l'occhiale particolare o l'orecchino anche magari con una perla e quindi ognuno di noi aveva una caratteristica, io gliela descrivevo e lei intanto creava questo avatar, questa bambolina a nostra somiglianza questo altro noi, allora tra un istante Pietro però vengo, torno da lei Daniello Mera, il libro è il risultato della realizzazione, anche il risultato di realizzazione di importantissimi progetti sociali, lei è instancabile e tra questi importantissimo un esperimento fatto nei reparti di oncologia dove gentilezza ed empatia arrivano come due carezze sembrerebbe normale dover dire, devono esserci, non per forza, è naturale che ci siano invece il vostro esperimento che cosa ha fatto saltar fuori? In realtà io penso a tutti i centri di ricerca più avanzati nel mondo del cancro che hanno proprio stabilito dei protocolli di gentilezza questo perché la vicinanza umana è una medicina straordinaria si è visto infatti che nel tempo la gentilezza nel percorso oncologico è un potentissimo strumento che è in grado di disinnescare moltissime emozioni negative che sono associate alle diagnosi di cancro, del percorso di terapie e migliora, migliora moltissimo la risposta ai trattamenti quindi ci sono tantissime ricerche pensiamo all'ascolto, all'empatia, alla generosità anche in un richiesta guardate questi medici e queste persone quanto è importante quando non si riesce ad arrivare al paziente l'empatia, il contatto umano e poi l'onestà e il supporto non solo al paziente anche alle famiglie la gentilezza è proprio una medicina e guardate, biologia della gentilezza perché ci sono dei capitoli e tra poco arriviamo al capitolo al capitolo secondo me tra i più difficili ma come tale è anche uno dei più belli parleremo del concetto di perdono ma è uno studio, è una scienza quella a cui Daniele Umera fa riferimento Pietro Giordanella la cosa molto bella che non deve sembrare tutto più comodo è il fatto che siamo segnati dico siamo, vede come mi sento già parte del gruppo siamo segnati solo con il nome su queste spillette lei è presidente, non c'è scritto presidente c'è scritto Pietro, c'è scritto Francesca anche questo ha un suo valore sì, questo è stato un tratto che fin da subito è emerso perché poi fra l'altro qui siamo in un po' le cliniche universitarie o professori comunque al di là di questo abbiamo detto no né cognome né titoli perché secondo me andava ad infisare un concetto che è quello della vicinanza e se io inizio a mettere i titoli se io inizio a mettere il grado gerarchico così faccio per dire si interpone distanza in realtà io sono Pietro io sono Francesca io sono Mario ma sono una persona che sono accanto a te cittadino, utente, paziente allora ci tengo a sottolineare che in questo momento noi stiamo parlando come ora solare di questo non esperimento di questa richiesta fatta nella maniera più spontanea da Pietro Giordanella e raccolta da una bravissima artista non tocchiamo tutti i problemi che riguardano il lavoro di queste persone gli infermieri i medici gli infermieri che sono un esercito che sta aiutando questo paese a sopravvivere tornare a vivere nella speranza rispettando le regole che niente di questo covid possa ritornare andando avanti nel tempo quindi ci tengo a dire che il sorriso è dato dal fatto che Francesca proviamo a raccontare solo le cose belle in questo momento tra queste cose belle i pazienti hanno cominciato a dire ma voglio pure io la spilletta è aumentata la richiesta ormai tutti li vogliono tutti tutti quanti lavoratori o non lavoratori pazienti infermieri chiunque ce le invidiano ce le invidiano tutti è inutile è diventata quindi giù a lavorare per produrre più spillette possibili sì sicuramente i pazienti sono proprio contenti di questa cosa si sono commossi nel vero senso della parola avevano gli occhi se si può dire quasi a cuore appena ci hanno visto che ci potevano riconoscere che eravamo noi eravamo i soliti la solita Francesca il solito Pietro non eravamo cambiati no però passi ore in un letto e hai bisogno di sapere che quegli occhi siano di Francesca che quella voce sia di Pietro questo è il senso questo gli dà della sicurezza esatto hai assolutamente bisogno di questo allora adesso ci spostiamo insieme a Francesca e a Pietro ci spostiamo su uno dei capitoli di questo Biologia della Gentilezza le sei scelte quotidiane ciascuna spiegata perfettamente per salute benessere e longevità il capitolo del perdono professore perdonare e lei stacca il verbo perdonare e si vede la parola perdono giustamente in un'altra maniera rende noi noi stessi persone migliori ci sono delle ragioni profondissime per introdurre il perdono come veramente come pratica come abitudine io l'ho visto in tantissimi processi e progetti sociali ad esempio nelle carceri o nelle scuole o nell'accompagnamento al morenchi ci sono delle storie incredibili sul perdono che hanno cambiato la vita di tantissime persone poi ho scoperto che c'erano delle ragioni anche che riguardavano la salute sicuramente chi perdona si ammala di meno e vive più a lungo questo è oramai scienza però tutte le volte che sono entrato dentro un carcere mi ricordo la prima volta che sono entrato in un carcere minorile tanti anni fa sono stato testimone di una storia che mi ha sconvolto lì sul momento però mi ha fatto anche capire l'importanza del perdono l'importanza dell'amore come sentimento io sono entrato e c'era una donna accompagnata da un educatore che ha indicato un ragazzo e l'educatore gli ha chiesto il suo figlio e la donna ha risposto no quello è l'assassino di mio figlio io sono rimasto un po' così si sono rimasti tutti molto perplessi e l'educatore gli ha chiesto come mai è qui a trovare l'assassino di suo figlio la signora ha risposto perché non dormo più la notte perché sono convinta che quando quel ragazzo esce da qui se nessuno lo aiuta potrebbe ricompiere rifare lo stesso atto un'altra madre potrebbe sentire il dolore che in questo momento sto sentendo io io mi ricordo ancora quell'aria quell'odore che c'era lì e questa donna ha detto io voglio aiutarlo voglio aiutarlo e poi ha detto le parole che io non dimenticherò mai ha detto se ce lo consentiranno vorremmo adottarlo allora di fronte a un atto di coraggio perché io non so come altro si possa definire una cosa del genere anche solo pensare di adottare l'assassino di tuo figlio è una cosa sconvolgente però non è tanto qua il significato della storia ma quando hanno detto al ragazzo quindi al ragazzo che aveva compiuto quel gesto gli hanno detto che la persona che al mondo avrebbe dovuto odiarlo di più cioè la madre della persona che l'aveva ucciso si stava sforzando per cercare di capirlo è stata la prima volta che l'hanno visto piangere che l'ho visto piangere non è stata la pena la punizione a cambiarlo è stato l'amore e il perdone Professor Lumera lei spiega tutto questo in maniera magistrale e sa questo è un discorso di biologia che è importantissimo nel momento in cui io penso al perdono io persona sfoglio il Vangelo e mi trovo di fronte alla immensità e alla difficoltà del perdono nel suo libro lei con la massima attenzione non è solo in questo libro ma insomma nel suo lavoro ecco lei ci porta questo esempio che è una è una bomba positiva qualora possa esistere una bomba positiva non so come dire cioè uno scoppio che cambia dentro le persone dentro è chiaro non tutti riescono a essere come quella madre non tutti io credo che ci sono tantissimi esempi noi crediamo che sia una cosa molto complessa invece è una cosa insita nella natura umana è una ragione ci sono veramente delle ragioni di sopravvivenza ed evolutive per sposare questo tipo di valori dobbiamo sicuramente comprendere che perdonare non vuol dire dimenticare ma svuotare il ricordo dal dolore perdonare non è neanche giustificare o non reagire perdonare è agire liberi dall'odio ad esempio già detto così può essere più comprensibile non c'è bisogno di essere necessariamente un santo ecco per poter perdonare anzi io credo che sia un atto di umiltà perché si comprende che dietro la rabbia dell'altra persona magari c'è una richiesta di amore e noi come società siamo molto poco inclini a capire il disagio il dolore delle altre persone capire che dietro un atto magari di di dolore inferto c'era un disagio c'era una paura profonda credo che dobbiamo dovremmo tutti sforzarci di andare più in profondità dietro l'apparenza delle cose il perdono è straordinario perché ci permette di liberare il cuore da dei pesi incredibili e poi soprattutto agisce sul cervello c'è un articolo bellissimo uscito anche nel New York Times dove i pazienti che si sono sottoposti a dieci ore di seduta del perdono hanno migliorato tutte le attività coronariche erano pazienti cardiopatici quindi il perdono fa bene al cuore io quando ho scoperto queste cose sono rimasto pieno di meraviglia però è la verità perdonare fa bene è come se insomma l'odio è un pessimo maestro pessimo è come se intasasse lo stesso fisico non so come dire è come è come una macchina che si ferma in un angolo non riesce a fare retromarcia non riesce si ferma si blocca le emozioni le emozioni negative hanno un effetto devastante sui livelli di stress di cortisolo che è un ormone legato allo stress cioè fanno proprio male semplicemente sono delle tossine come se noi mangiassimo dei cibi avvelenati e ogni giorno ognuno di noi potesse mettere nel piatto una serie di emozioni se qualcuno chiaramente si nutra di rancore rancore viene dal latino rancido rancore già la parola ti fa capire che cosa stai tenendo dentro il tuo corpo rancore rabbia risentimento impotenza colpa queste sono tutte cose che ci fanno ammalare che abbassano il sistema immunitario e il perdono sembra che sia la cura la medicina questo signore che state vedendo ogni anno il 14 maggio ha istituito la giornata del perdono ha ricevuto riconoscimenti ancora ancora dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella quest'anno ha ricevuto la medaglia per il terzo anno consecutivo lei lavora molto sui bambini lei lavora per rieducare con la biologia della gentilezza tutti noi insomma basta leggere basta leggere quando si arriva all'ultima pagina intanto ve lo garantisco si ritorna indietro e si dice aspetta fammelo rileggere bene questo capitolo che lo devo rivedere anche con degli esempi ascoltare un certo tipo di musica insomma vedere le cose da un altro punto di vista è questo il senso? il senso è che il senso è che è semplice che bastano sei abitudini coltivate ogni giorno grazie a Dio questi valori sono come dei muscoli la scienza ci ha detto che solo per il 25% dipendono dai geni poi vanno allenati quindi bisogna ogni giorno andare in palestra e allenare questi muscoli quello che abbiamo detto prima è proprio vero far del bene agli altri ci fa bene ci fa proprio bene innanzitutto fisicamente io ho visto degli studi sul tasso di mortalità le persone che aiutano ma sinceramente il prossimo attraverso azioni di volontariato a volte arrivano a un tasso di mortalità inferiore del 60% questo perché tutte le azioni di volontariato sociale aiutano semplicemente tutta la nostra biologia il nostro corpo a funzionare meglio oltre che allontanano io personalmente ciò che ho visto nelle scuole nelle carceri e negli ospedali relativamente all'accompagnamento al morente è stato il meglio dell'essere umano non l'avrei mai detto di trovare lì dentro dei grandi maestri dei grandi insegnamenti ha ragione quando sono entrato nelle carceri ero convinto di poter insegnare qualcosa è stato il contrario hanno tirato fuori il meglio di me è sempre il contrario quando la persona che entra per insegnare qualcosa è fortemente ricettiva e sensibile come Daniel Lumera la ringrazio tantissimo professore biologia della gentilezza le sei scelte quotidiane per salute benessere e longevità edito da Mondadori allora fare del bene allunga la vita Pietro Giordanella e Francesca presentati spegneranno 150 candeline cada uno perché nel ringraziarli il bene come l'hanno fatto loro e tutto il loro team è difficile da trovare altrove grazie di essere stati con noi grazie grazie a voi grazie di cuore allora ci fermiamo soltanto per un istante grazie a tutti voi per la gentilezza che dimostrate ogni giorno nel seguirci allora aspettateci un attimo arriviamo l'ora solare torna tra poco grazie due pezzi di cielo i tuoi occhi azzurri e limpidi profumo d'acqua d'angelo e di anice collane intrecciate varie pinte margherite il cesto con le fragole le noci queste poche parole che abbiamo ascoltato che stiamo ascoltando sono fanno parte di un brano di Michele Mucciacito e Anna Bartolini interpretato dalla cantante Ipazia dedicate avete visto questo volto meraviglioso alla piccola grandissima Sara Matteucci la storia di questa bambina è la storia di una di una piccola piccolissima bimba che è venuta a mancare a sette anni e mezzo nel 1986 dopo una lunga malattia trascorsa affidandosi a Gesù e Maria Angelo Matteucci Anice Garulli sono i genitori di Sara che ringrazio immensamente per aver accettato il nostro invito grazie grazie a lei grazie con un bacio grandissimo ad entrambi e Roberto Mazzoli Roberto buon pomeriggio giornalista direttore del settimanale il nuovo amico delle tre diocesi di Pesaro Fano e Urbino autore del libro Sara Matteucci il mistero della fede bambina edito dalle edizioni San Paolo con la prefazione di Monsignor Piero Coccia arcivescovo metropolita di Pesaro Roberto buongiorno buongiorno Paolo grazie di essere all'ora solare come è venuto a conoscenza di questa storia che è una costante testimonianza di fede io appunto come hai detto tu lavorando in un piccolo giornale arrivano diverse diverse lettere e tante testimonianze spesso diciamo così scartate dalle testate più note più importanti e però sono storie come dicevi tu appunto sono delle piccole perle preziose e questa di Sara appunto è arrivata in questo modo attraverso una lettera di sua mamma Nice che ha mandato questa queste poche righe in redazione per così per fare per fare gli auguri in realtà era una lettera per fare gli auguri a suo marito Angelo per l'anniversario di matrimonio e in questa breve lettera accennava qualcosa ai propri figli e in particolare a Sara Matteucci appunto questa bambina che mi ha subito colpito Roberto Sara si ammala a 5 anni 5 anni su 7 e mezzo che ne ha vissuti come innanzitutto c'è da leggere il tuo libro prima di tutto però per raccontarlo ai nostri amici dell'ora solare questa bambina così piccola come vive la sua malattia? è in maniera veramente sorprendente questo che appunto lascia senza parole lascia senza parole non solo il sottoscritto quando sono venuta a conoscenza di questa storia che poi era stata raccontata dai genitori in un diario l'anno seguente la morte di Sara un piccolo diario di poche righe insomma di poche pagine e in questo diario comparivano anche tante altre voci come quella di tanti sacerdoti della nostra diocesi di Pesaro che avevano accompagnato Sara ne viene fuori appunto un racconto di una chiesa domestica anzitutto la fede di Sara è una fede semplice vissuta in famiglia con la nonna con gli amici a scuola nei luoghi appunto della sua infanzia Mercatello sul Metauro che è un piccolo paese dove vivevano appunto i nonni cioè i genitori di Angelo a Mercatello c'è un monastero c'è appunto la devozione a Santa Veronica Giuliani e quindi ecco si vede appunto come Sara annusa e respira questa fede sin dall'infanzia da piccolina alle mese di maggio e lei ad esempio a condurre la coroncina del rosario in giro per le abitazioni del suo paese e quindi ecco è veramente una fede semplice ecco come quella che viene insegnata nel Vangelo con le parole di Gesù insomma l'altra domanda dovrebbe essere perché hai voluto raccontare a distanza di 30 anni questa storia in un libro in realtà è una domanda che contiene già la risposta si doveva fare vero Roberto? era giusto farlo? hai detto bene mi sono accorto che quella famosa lettera di cui dicevo prima quando quando l'ho pubblicata sul giornale dopo aver fatto diverse telefonate e varie ricerche per essere sicuro di quello che andavo a pubblicare mi sono accorto che appunto in redazione arrivavano tantissime richieste per sapere qualcosa di più non bastavano poche colonne di un giornale bisognava raccontare qualcosa di più mi chiamavano per sapere cos'altro potevo dire a quel punto ho dovuto per forza mettermi sulle tracce di Sare ho scoperto veramente un mondo bravo Roberto sono l'ultima della lista della serie a dirti bravo però bravo perché perché l'impegno e il lavoro sono anche questo mettersi a disposizione di una storia grandissima Angelo e Anice intanto io vi guardo vi posso mandare il mio affetto soltanto da lontano però arriva a casa proprio dritto diretto scusatemi allora l'incontro tra le tante immagini che voi avete nel cuore e portate nel vostro ricordo l'incontro con San Giovanni Paolo II con Papa Karol Wojtyla cominciamo cominciamo da quel momento che vediamo vediamo in questa immagine chi me lo racconta? questo incontro è avvenuto in una maniera un pochino raccambolesca perché Sare in quel momento stava ricominciando a stare bene dopo un anno circa di cure dopo la malattia quindi per noi era un momento dove riuscivamo a scaricare tutta la nostra attenzione perché eravamo innamorati anche noi di Giovanni Paolo II lui era Sara e quindi siamo riusciti ad andare lì grazie anche a Don Giuseppe Zambalbiri dell'Opera Don Orione che si ha fatto un pochino da tramite e che ci ha dato anche l'opportunità di arrivare in prima fila dove Giovanni Paolo II poi ha deciso salutarsi con quell'abbraccio che vedete nella foto appunto noi avevamo preparato tante cose da dirgli perché volevamo dirgli chiesa che cosa eccetera se siamo solo commosse non siamo riusciti a dirgli niente Sara invece in quel momento è riuscita a dirgli Papa ti voglio bene poi non lo so perché noi piangevamo e quindi chiaramente era lei e lui insomma e poi si vede dalla foto l'intensità dei loro sguardi sicuramente sicuramente arriva era il suo Papa Papa Voitua viene eletto nel 1978 è l'anno di nascita di Sara esatto era il suo Papa Papa ti voglio ti voglio bene guardate questa immagine guardate con quale e quanto e tanto immenso affetto il Papa abbraccia questo piccolo gigante Roberto Mazzoli ricordando le lettere le tante lettere arrivate in redazione ecco ne riparleremo ci ha parlato dell'Argentina Roberto arrivo tra un attimo da te ma chiedo ad Angelo ad Anice il legame con l'Argentina nasce in realtà molto tempo dopo siamo a siamo a un passo dal 2000 perché Anice perché Angelo essendo un ex allievo di Don Orione da quando l'ho conosciuto io rappresentava gli ex allievi di Don Orione e quindi prima era presidente delle Marche poi la congregazione era ampia quindi era diventato presidente addirittura anche fuori dall'Italia e in quel periodo noi dovevamo fare le notte d'Argento e Angelo aveva già in programma questa questa riunione che avevano nel Brasile mentre lui era in riunione a Roma io con gli altri figli però soprattutto Omar perché era il più grandicello vedendo un filmato sull'Africa povera ci siamo sprofondati nel divano e abbiamo detto Omar come facciamo noi a fare una festa per le nostre notte quando ci sono bambini che muoiono che muoiono di fame e di lì io Omar quella notte abbiamo detto se noi rifiutiamo i nostri regali che saranno regali anche sostanziosi perché abbiamo tanti amici tanti parenti potremmo fare qualcosa di buono quindi al ritorno ne abbiamo parlato con Angelo Omar era d'accordo i fratellini più piccoli anche e così è nata questa cosa perché lui doveva anche trovarsi in Brasile dove delle suore dovevano costruire delle casette per le capanne per le famiglie che vivevano nelle capanne e di lì è partita questa cosa che noi con le nostre notte abbiamo dato 7 milioni e mezzo poi la cosa non si è fermata lì perché amici parenti ci hanno aiutato e è andata avanti questa cosa una casa per i bambini di Barrancheras dico bene vero di Barrancheras sorrido perché veramente siete una famiglia meravigliosa voi siete un pezzo di cielo staccato e arrivato sulla terra e quindi proseguite e andate e andate avanti Anice molto molto colpito dalla storia di Sara e qui è una gara a citare le persone più belle è stato anche Fabrizio Frizzi persona che lei conosce bene meravigliosa diciamo meravigliosa e comprende tutto ecco come è stato questo vostro incontro non lo so guardi io una persona così a parte che non sono molto amica dei personaggi televisivi però veramente in lui abbiamo notato una cosa che non è da tutti le dico solo questo particolare la prima sera che lui ha saputo di Angelo che tornava dall'Argentina ha scattato una foto a tante persone vicino a lui volevano le foto e a un certo punto mi sono tirata indietro e qualcuno mi ha detto ma perché non fai la foto con Fritti perché non lo voglio disturbare perché lui aveva notato questa cosa questa non so come spiegarlo ecco lui aveva qualcosa di diverso dagli altri che a me era entrato dentro poi finito le foto con Angelo Ivo Pulcini eccetera è lui che mi chiama signora ma lei perché non viene con noi di lì è nata questa forte attrazione per lui e lui per noi e la sera che gli abbiamo dato il libro di sera non me lo scorderò mai perché lui era nel parco con noi che continuava a parlare di questo e poi a un certo punto io dico però tu stai facendo tardi e lui mi fa sì c'è la mia ragazza alla porta che mi aspetta perché proprio non voleva andarsene ecco era con noi signora è nel mio cuore e Fabrizio era lei ha fatto la Polaroid proprio lo scatto e è uscita fuori la fotografia perfetta 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 allora torno da Roberto Mazzoli Sara Sara sette anni e mezzo solo sette anni e mezzo di vita coltiva un rapporto privilegiato di amicizia con Gesù con l'Eucarestia con Maria questa grande maturità spirituale di una piccola bambina come sei riuscito a renderla all'interno di questo libro ma guarda hai detto bene la grande maturità spirituale è quella dell'infanzia spirituale è quella che ci ha insegnato anche Santa Teresa di Lisie è il percorso che poi in realtà il libro in effetti parla di Sara ma racconta anche un po' tutto il percorso della Chiesa sin dalle parole di Gesù nel Vangelo se non le ritornerete come bambini e tanti altri passaggi che ben conosciamo c'è un lungo percorso della Chiesa su questo tema che arriva fino ai giorni nostri fino poi all'esortazione di Papa Francesco Gaudete ed Exsultate dove siamo chiamati appunto tutti alla Santità e lì viene detto appunto bene questa piccola via è l'infanzia spirituale che non è regressione non è infantilismo Sara appunto è la testimone di tutto questo è una delle tante testimoni in questo caso la sua storia è veramente incredibile vedere come era lei a consolare ad esempio i genitori in questa prova difficilissima della malattia sin dall'inizio appena entra in sala operatoria e lei appunto prendere il volto della mamma tra le mani per consolarla e dire mamma io voglio più bene alla Madonna che a te e poi questo suo incessante desiderio dell'Eucarestia per Sara l'amicizia con Gesù e la Madonna è un'amicizia reale non è un'amicizia astratta è veramente reale sai Roberto noi abbiamo terminato il nostro tempo tu hai detto la cosa più bella un'amicizia reale è che i bambini i bambini non hanno filtri i bambini i bambini sono diretti e direttamente arrivano ma il tuo libro e la storia di Sara e Angelo e Anice e tutta la loro famiglia hanno fatto sì che da quando questo libro è uscito tantissime persone si riechino a portare un fiore in più a Sara a ciò che di Sara è il ricordo su questa terra questo è altrettanto importante questo significa aver colpito nel segno e nel cuore delle persone io come dico sempre facendo impazzire la mia produzione Vincenzo Guida che ringrazio ogni giorno aspetto Angelo e Anice a Roma vi aspettiamo a Roma dentro lo studio dell'ora solare non appena potrete essere presenti per favore e ride Anice sorride per piacere per piacere per piacere ce la faremo ce la faremo è molto difficile grazie lo so lo so Anice però io le cose difficili le amo tanto e quindi provo a buttarmi in avanti cercheremo di farlo Roberto grazie mille grazie a voi Roberto Mazzoli un grazie rotondo noi ci vediamo domani l'ora solare grazie a tutti voi per averci seguito fino a questo punto grazie di cuore oggi più che mai grazie a tutti